Pronto? 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 Mi sente? Sì Signora Luiz Sotto Tommaso Grella Pronto? Sotto Tommaso Grella Allora mi sente signora? Pronto? Signora mi sente? Sì Allora sono Tommaso Grella Volevo fare un attimo un richiamo gentilmente C'è un richiamo proprio Cioè nel senso una citazione se era possibile Mi sente? Sì ma non abbiamo tempo da dedicarle Mi dispiace Scusi signora ma dove ho chiamato? Scusate signora Voi avete chiamato un parrucchiere Eh allora mi trovavo bene No era proprio questa la discussione No perché allora io sono Tommaso Grella Io sono un marito di quella la un po' corta la Signora Maria Ah sì mi dica Ah Non l'avevo riconosciuta Scusi mi chiedo scusa Non l'avevo riconosciuto proprio la voce Ecco perché Ah beh lo so perché la mia voce a volte è un po' inconfondibile Vero vabbè e avevo chiamato giusto per sapere se era possibile nel pomeriggio verso le 5 e mezza Perché mia moglie mi ha fatto una testa così Lei i capelli si deve fare bella Allora io stasera la volevo portare in un mega ristorante dovevo fare bella figura Se gentilmente ve la posso mandare più tardi Sarebbe veramente una bella cosa Ascolti noi chiediamo alle 18 Allora facendo un attimo i calcoli Perché è una lottura signora mamma mia E' messo i 5 va bene Cosa deve fare? Eh sì io si dovrebbe fare Allora io non è che ne capisco tanto Vabbè dovrebbe fare tipo una messa in piega Magari una mesh una cosa particolare Bottante che me la fate è bella Perché oggi l'ho vista proprio brutta Ma onesto proprio Oggi stasso da solo Ma oggi non si voleva proprio guardare Eh sì Allora che facciamo Lo sogniamo questa cosa che ho già alle 5 viene Se siete libera sempre gentilmente Alle 5 Alle 5 si alle 5 Mettete alle 5 si Ma devo venire pure io O ci sono problemi Perché io adesso penso di venire a pendere verso le 6 Se è pronta No 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 Signora mi sente? Sì sì Sento troppo un po' ci fare io Ma signora scusa ma a questa ora già avete i clienti Sento più gente che va gente che viene Va bene meglio così quando si lavora è tutto di guadagnato Voglio capire Confermiamo alle 5 allora Alle 5 ok perché non alle 18 chiudiamo Ok facciamo alle 5 mi raccomando signora Comunque si deve fare una bella messa in piega Una cosa particolare perché stasera dobbiamo anche festeggiare Stasera è un anniversario Dobbiamo fare bella figura veramente Quindi ci tengo proprio Cioè perché veramente l'ho vista pietosa Sempre lo stesso signora Sempre Gagnanillo Ah signora Gagnanillo Maria Gagnanillo Gagnanillo Signore sei restata troppo gentile veramente mi raccomando signora Mi raccomando veramente Lo faccia per me che stamattina l'ho vista proprio pietosa Va bene Va bene va bene La ringrazio Buon lavoro signora veramente gentilissima Buonasera Buonasera Ciao un bacione Ciao bella Ciao 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 Grazie a tutti.